Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una serie tv di cui voglio parlarvi da parecchio tempo, You. You è una serie tv che potete trovare su Netflix. Le prime due stagioni sono piaciute ma secondo me sono passate un po' troppo in sordina. La terza invece ha riscosso l'attenzione che secondo me ha sempre meritato perché è un prodotto dal mio punto di vista molto molto valido. Più valido, molto più valido, di tante serie tv che sono state sulla bocca di tutti. Quindi detto questo parliamo di You. Allora senza fare spoiler così come vi ho scritto nel titolo perché è una serie tv che va vista, raccontata perde tutto. Deve essere vista. Allora questa serie tv ruota intorno ad un personaggio interpretato da un attore Penn Begley, credo si pronunci, è un attore che a quanto dice la mia ragazza ha fatto anche Gossip Girl, ma io Gossip Girl non l'ho mai visto e così vorrei continuare, diamolo per buono, Wikipedia le dà ragione, è un attore che comunque al pubblico che era, diciamo, adolescente ai tempi di Gossip Girl dovrebbe essere un volto noto. Questo nostro Penn Begley interpreta Joe Goldberg. Joe Goldberg è un ragazzo all'apparenza normale, all'apparenza tranquillo, all'apparenza il ragazzo che incontri tutti i giorni che in realtà ha un modo di pensare un po' fuori dalle righe e anche un po' fuori dalla legalità a volte e anche un po' fuori dal normale. È una persona che, vi ripeto, all'apparenza è molto mite, molto tranquilla ma la sua psiche è sicuramente stata influenzata e disturbata da un'infanzia tutt'altro che semplice. Però lui che problematica ha? Lui va a crearsi delle fissazioni, delle ossessioni. Mi faccio capire. Avete presente, è capitato almeno una volta nella vita chiunque di entrare, che ne so, in un negozio, in un bar, vedere la barista, la commessa, il commesso, il barista è farsi il film, vedersi già sposato con quella persona, vedersi con i figli, vedersi già felice e innamorato con quella persona, il tutto mentre magari beve un caffè, ok? È capitato da tutti. Lui, come tutti noi, si fa questi film ma sono cose che nella sua testa diventano immediatamente reali, ok? E quindi molto spesso c'è questo scontro fra ciò che lui si immagina e poi il feedback reale che quella persona gli dà. Perché magari lui si immagina gentile, dolce, amorevole e quella persona è tutt'altro. Quindi c'è questa sua visione a volte distorta della realtà e lui non accetta questa cosa qui e quindi a tutti i costi, con inganni, con azioni poco nobili, a volte con azioni del tutto illegali e pericolose, cerca di rendere reale quello che la sua psiche disturbata gli ha fatto vivere, gli ha fatto sfiorare, ok? Lui lavora nella realtà. Questa serie tv è molto bella perché oltre alla normale narrazione di una serie tv molto spesso si sente il pensiero di Joe, si sente cosa pensa, si sente la maniera in cui lo pensa, il tono in cui lo pensa, il suo stato d'animo quindi ed è, secondo me, un bel modo di veicolare lo spettatore a quella che deve essere la chiave di lettura di quella scena, di quel momento, di quella decisione. Però nonostante ciò è una serie tv che ti lascia piuttosto libero di interpretare, è una serie tv che ti lascia piuttosto libero di farti la tua idea, la tua convinzione e 99 su 100 è una serie tv molto aperta al dialogo, se così si può dire, perché anche se il tuo punto di vista, anche se quello che tu dici, ok, se fossi in quella situazione io farei, se fossi in quella situazione io cercherei di... A volte non ci prendi, ma non ha voli pindarici estremamente strani, estremamente inconsueti, estremamente stupidi, è una serie tv che non ha nulla di razionale nel suo modo di pensare, perché la serie tv, il modo di pensare della serie tv è molto un tutt'uno con il modo di pensare di Joe, quindi ha ben poco di razionale, ma è tutto molto logico, ok, quindi è una serie tv strana, ma coerente nella sua stranezza, e questa è stata una delle caratteristiche più belle. Un'altra caratteristica stupenda sono i personaggi, sono tutti scritti da Dio, avete presente i personaggi della casa di carta? Ecco, l'opposto fortunatamente, qua sono scritti veramente bene, e per quanto alcuni siano strani, ti affezioni a tutti. Li conosci, è come se fossero i tuoi colleghi di lavoro, sai che abitudini ha una persona, sai come ragiona, sai i suoi pregi, i suoi difetti, li conosci, sono scritti bene, sono reali, sono in 5D, ok? Joe sicuramente è il personaggio quello più approfondito, quello dove la sua emotività è stata tirata fuori maggiormente, e quello dove il suo io è stato proprio sviscerato, e questo suo io ti viene un po' ad avvolgere mentre guardi la serie tv, e sicuramente è stato il personaggio più approfondito. Poi ci sono tante altre figure, ora senza farvi spoiler, Beck, che è la persona che tira fuori la vera personalità di Joe, è la persona che ci dà la possibilità di conoscere il vero Joe, Love Queen, secondo me è il personaggio migliore di tutta la serie, sia per come è stata scritta e sia per come è stata interpretata, perché Vittoria Pedretti, santo cielo, ha fatto una performance attoriale della madonnissima, della madonnissima. Soprattutto la vicenda fra Joe e Love è una vicenda densa di amore, densa di passione sessuale, densa di follia, densa di, allo stesso tempo voglia di normalità forte, fortissima, ti trascina, ti trasporta, ti prende lì dal divano e ti proietta dentro lo schermo e ti cattura, ti cattura. Il personaggio di Love è un personaggio dolce, è un personaggio forte, è un personaggio folle, è tremendamente emotivo, e questa scelta di prendere Vittoria Pedretti come attrice è stata l'ideale perché la sua espressività riesce al 100% sempre e in qualsiasi situazione a prendere tutte le emozioni che sono state scritte per il personaggio di Love Queen e a mettertele lì, sullo schermo, perché Vittoria Pedretti tutte queste caratteristiche, passione, amore, follia, voglia di normalità, sensualità, sono tutte caratteristiche che la sua espressività riesce a riportare ed è qualcosa di fantastico, fantastico. Dal punto di vista dell'audio, molto belle le colonne sonore, soprattutto verso il finale della terza stagione c'è una colonna sonora stupenda, io non la conoscevo, il brano è Exil di Taylor Swift e Bonnie Iver, veramente un pezzo fantastico ed è stato messo lì a dovere e tutto il sonoro è curato piuttosto bene ed è molto bello da ascoltare anche. Ci sono due o tre brani che sono andato a recuperarmi perché mi sono piaciuti. Sicuramente le prime due stagioni andate così bene hanno portato un pochino più di budget per la terza stagione perché infatti con la terza stagione anche il comparto fotografico è notevolmente migliorato. La regia è sempre coerente dall'inizio della prima stagione alla fine della terza è una regia molto oggettiva, molto fredda, molto distaccata, ma quello che ti deve far vedere te lo fa vedere molto bene e te lo fa vedere con il mood con cui dovresti vederlo, quindi è una regia che fa assolutamente il suo lavoro. Non è una regia così particolare, non è una regia associata alla fotografia come può essere Roger Dickens in 1917 con Mendes, però è una regia che fa il suo dovere e lo fa molto bene e non è già facile fare questo. La fotografia secondo me è migliorata rispetto alle prime due stagioni, c'è un po' più di budget, c'è sicuramente una ricerca più interessante di quella che è l'immagine e secondo me nella terza stagione ci sono delle scelte di fotografia talmente belle che come dico a volte li fai lo screenshot e ti fai un quadro, veramente molto molto belle. Le prime due stagioni sono girate con una Lexa LF, se non erro, la terza stagione è girata con una Red, monstro. Però molto spesso io sento dire, anche io ne ero convinto, che la Aria ha quel look un pochino più cinematografico, la Red ha quel look invece un pochino più digitale, però devo dire che la terza stagione a livello fotografico è quella che mi è piaciuta di più. Sicuramente c'era un pochino più di budget, secondo me c'era anche più consapevolezza di quello che si poteva tirare fuori viste le prime due e hanno fatto anche lì, secondo me, un lavoro fantastico, fantastico. Sicuramente la cosa più riuscita di tutta questa serie tv, per concludere, è la scrittura dei personaggi, perché è una serie tv estremamente emotiva, che però ha delle tinte thriller, ha delle tinte del giallo, ha delle tinte del drammatico, e quindi c'è tutto qua, c'è l'emotività, c'è l'amore, c'è il thriller, il giallo, c'è la sensualità, e tutte queste emozioni sono emozioni molto riconducibili alla vita vera, perché sono tutte emozioni che noi abbiamo, la rabbia, l'emotività in generale, l'amore, la voglia di fare sesso, sono tutte emozioni che noi nella vita vera abbiamo, ok? Lì alcune però sono prevalenti rispetto ad altre, capita a tutti di arrabbiarsi parecchio con una persona, ok? Però noi ci poniamo dei limiti, noi ci poniamo dei paletti, e ci arrabbiamo, magari urliamo, e poi finisce lì. Lì a volte si va oltre, quindi sono tutte emozioni che noi tutti conosciamo, le conosciamo tutti quelle emozioni lì, ma sono enfatizzate, sono portate ai loro limiti, e sono vissute a 360 gradi. Sono tutte emozioni che noi conosciamo, non c'è nessuno al mondo che non abbia mai provato amore, che non abbia mai provato rabbia, che non abbia mai provato gelosia, noia, stupore, sono tutte emozioni che noi conosciamo, il colpo di fulmine, ok? E la cosa bella di questa serie tv è che tutte queste emozioni vengono prese, vengono vissute da tanti personaggi, ognuno al suo modo, ognuno con la sua personalità, ognuno con la sua sensibilità, eppure tu lo fai, pure tu vai a vivere quelle emozioni con la stessa sensibilità, con la stessa emotività con cui vivi veramente quelle tue emozioni. E quindi non sei mai uno spettatore passivo, sei lì che guardi sempre, sei lì sempre che ti vai a medesimare. E ciò come è possibile? Con una scrittura corretta e con una scrittura dei personaggi estremamente, estremamente ben fatta. Questa serie tv proviene da un libro, di solito tendenzialmente quando un prodotto audiovisivo proviene da un libro, i personaggi sono sempre abbastanza approfonditi. Però, come sappiamo, il linguaggio di un libro è diverso da un linguaggio audiovisivo, quindi anche la trasposizione dall'opera scritta all'opera audiovisiva è stata fatta molto, molto bene. Recuperatevi, you, perché una serie tv che parla in questo modo dell'io, della personalità, di ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, di ciò che è folle, di ciò che è normale, lo fai in questo modo, è una perla rara da non perdere. Mi raccomando, recuperatevela. Quindi, detto questo, iscrivetevi al canale spuntando la campanella, se ancora non l'avete fatto, così verrete sempre aggiornati quando pubblico un video nuovo. date un'occhio alla descrizione e a breve arriverà un video, siamo andati in un posto che non sembra neanche di essere in Italia. Ciao belli!